Forse sono da regalare tantissime skin gratis ma non solo perché anche i tv back possono essere orari scattati gratuitamente Come riceverli? Te lo spiego in questo video E ma se anche te lo puoi riceverlo 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche i tv back gratuiti Beh ragazzi mi raccomando vi ricordo di prendere i regali giornalieri Perché quest'anno se per caso per un giorno non vedete un regalo i regali si accumuleranno Quindi potete prendere in tranquillità quanto vorrete perché appunto ci sarà anche questa skin gratuita che state vedendo qua Parliamo ora dei v-back gratuiti di questo video Come si vanno a ricevere? Se andiamo nel negozio e andiamo nella sezione appunto delle macchine Ok questo qua c'è nei due motori Vedete che i v-back dei bundle sono ritornati ai prezzi di come dovevano essere già Ed erano 5.000 quindi riceverete un rimborso più qualche v-back in più regalo da parte della Epic Quindi lo sta consegnando da oggi entro 48 ore Da quando ti ricordo codice supporto numeratore Codingame a 5.2 Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Bye A 50 like codice skin Noi ci vediamo al prossimo video